mister andrea ltg24 domenica un avversario molto ostico su un campo difficile quale insidia maggiore per la sua squadra benevento avversario di grandissimo valore nelle individualità e anche nel collettivo ovviamente fatto le prime due giornate non ha raccolto un punto però è andata a fare il risultato a genoa che sarà un campo molto molto complicato per tutti è una prima partita dopo aver fatto un grande primo tempo per un errore insomma ha regalato i tre punti all'avversario sappiamo che sarà una partita difficile molto e quindi dobbiamo presentarci al massimo dei nostri livelli e ci siamo preparati per per essere al massimo salines gazzetta dello sport le fibrillazioni in casa benevento sono un insidia in piove del frusinone o un boomerang per i campani ragazzi insomma sappiamo quello che troviamo che comunque una squadra che ha attraversato anche l'anno scorso le difficoltà ha dato continuità tecnica comunque un allenatore che stimo una squadra che ha grande qualità ha sempre dimostrato di saper reagire alle difficoltà e vorrà farlo anche oggi quindi noi queste cose le conosciamo e quando le conosci ovviamente devi essere pronto a saperle affrontare è una squadra che vorrà a tutti i costi fare il bottino pieno davanti al suo pubblico che sarà un pubblico molto caloroso come l'è sempre stato che ha le qualità per poterlo fare però di fronte ci siamo noi e noi conosciamo gli insidi ma sappiamo anche quelle che sono le nostre qualità e dobbiamo essere bravi a saperle mettere tutto dentro al campo dal primo all'ultimo secondo perché ci sarà bisogno di farlo con chi inizia e soprattutto anche con chi entra di ruzza del tifoso mister pensa di confermare gli undici di domenico ci saranno delle variazioni dovute anche all'avversario le partite poi fatte 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 bene lasciano le scorie nella scorsa abbiamo dato un grande ritmo grande intensità nei giorni successivi alla gara qualche ragazzo comunque accusato qualche dolore usciti con qualche acciacco qualcuno il primo giorno della settimana si è allenato a parte credo di aver recuperato tutti se dovessimo essere domani tutti al nostro massimo perché ci sarà bisogno del nostro massimo molto probabilmente riconfermeremo la squadra altrimenti abbiamo dei ragazzi dietro pronti che spingono e che si sapranno far trovare pronti se ci sarà bisogno campioni alle Frosinone e Radio It FM c'è la solita abbondanza anche in attacco ha già deciso chi partirà dall'inizio? appena hai risposto sappiamo che abbiamo dei giocatori giovani e di valore sappiamo che le partite ovviamente si fanno nella loro pienezza nella loro pienezza comunque durano tanti minuti abbiamo cinque campi a disposizione sarà importante che inizierà la gara ma sarà determinante come sempre chi subentrerà perché continuerà il lavoro dei compagni che l'hanno iniziata l'ultima visca a Frosinone Today come stanno Mazzitelli e Sampirisi e se hanno già la possibilità di debuttare a Benevento? ma no c'è bisogno ancora di un po' di tempo perché Luca arriva da un problemino e quindi oggi aveva le visite per vedere se tutto era passato e quindi poi dovrà essere condizionato per arrivare al pari dei suoi compagni e Mario lo stesso non ha avuto nessun infortunio però comunque è un po' indietro di condizione come è normale che sia e cercheremo il prima possibile di rimetterlo a livello dei compagni perché comunque sono due ragazzi che hanno qualità tecniche che tutti conosciamo e hanno grandi qualità umane importanti per il nostro gruppo, vengono a integrare i nostri giocatori e siamo contenti di averli a disposizione insieme a noi